Slenderman, Slenderman, all your children try to run Slenderman, Slenderman, to him it's part of the fun Slenderman, Slenderman, dressed in dark in suit and tie Slenderman, Slenderman, you will certainly die Bellissi a tutti e oggi siamo su agar.io Che sarebbe un gioco che vi ha consigliato Dolly, Sabi e Ita Siamo dunque Vizard HD Che sarebbe il suo link flavor di Minecraft Eh, il mio Slenderman 42 perciò Mi son mangiato Marte Slenderman 42, ovvio che è il mio link flavor, giusto? Questo gioco devi soltanto mangiare le altre palline Avevo che non ti mangiava dove lo dico È una questione di palli Allora, se volete su questo gioco ci farò anche la live Doge Dove vuoi mangiare il doge? No, no No, eh Io so Non so, se sei più sexy C'è qualcuno che tentate di ingrupparmi Cosa mi riuscire quasi? Ucraina, Ucraina, vieni da me Tu, dove stai, Colaf? L'altro mondo no no mi sono suddiviso mi sono suddiviso mi sa che ci vediamo nell'angolino in basso a destra l'angolino in alto a destra l'angolino in basso a destra ah ecco ti aiutiamo slendy 4 si ok ci sono questo e questo mi voglia aspetta che mi voglia facebook aspetta aspetta che mi voglia la kc oh la 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 mi voglia mi sono mangiato in dodge mi sono mangiato in dodge con lente classifica ci andrò a fine subito allora il mio obiettivo è arrivare al decimo posto in classifica non ce la farai mai eh stiamo a vedere dove io ti metto io non comincio a venire in un angolino a destra i cibo il nome più bello ce l'ho io guarda se riesco ad arrivare con questo nome nella classifica 10 10 like picchia dove l'ho schifato piedi fai sforzato 10 like e slender 42 se riesco lo ti vedo cola io sono un po' in giro in mezzo un po' di gente a far bordello ci sta ci sta ci sta si mi vogliava l'un laggiù lo spaccavo qualcosa piedi fai io ti odio si ci sta mi vogliava l'ho mi vogliava l'ho mi vogliava l'ho Dai no pure! Dai no pure! Dai no! Dai no! Dai no! Vabbè... Allora... Devo riuscire ad arrivare almeno al decimo! Lo mi scollo da... A gari finchè non riusciva ad arrivare al decimo! Che è che sei bitto! Muovimi come la palla! Muovimi come la palla! Non pensate... Non pensatevate mi credo! Stoppa! Qua tu stoppa! È in seguito che abbiamo uscito prima! Pokerface! Eh beh... Quanto mi ti le fai per arrivare sul... 92... Dai! 1112... 11122! Dai! Perché mi sono stoppato? No! Aiuto! Amore! Perché... Come sei? Se... Mi aiuti a crescere... L'angolo è basso a destra? Sì! Ma sono dietro di te! Colab! Non ti avevo visto! Non provare a mangiarmi! Hai capito? No! Non parlo con quella! Dai! ti accepti! Bisogna! Non parlo! Di l'angolo è arrivato... Sì! Ci salutiamo! mangiare vabbè 9 like perché quello l'ho messo in centro non ci sono arrivato perciò dai quindi se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace come ten se volete commentare condividete se volete condividere e noi ci vediamo al prossimo capitolo auguriamo a colap io c'è alla neve e noi ci vediamo nel prossimo capitolo bellissima ciao